Buona visione da Dr. Glass. Cari telespettatori, buonasera. Riparte la stagione di Safe Drive Motorsport, ripartono i campionati nazionali, tutto il meglio su questa rete di Odeon. Tra l'altro approfitto proprio in questa apertura di farvi notare la nuova ambientazione, il nuovo studio che ospiterà a volte anche le vetture dei protagonisti. E vi ricordo la nuova programmazione, questa puntata inedita che va in onda il martedì alle 20 e poi ben due repliche, una il giorno successivo il mercoledì alle 22 e il sabato alle 20 e 45. Dicevo partono i campionati, il primo campionato in assoluto è stato il campionato italiano rally, l'eccellenza della specialità e partiamo subito con una grande puntata con dei protagonisti di questa serie. Alla mia destra il team Skoda, capitanato da Umberto Scandola, ciao Umberto. Buonasera a tutti. E lo chiamiamo team manager, anche se magari è una parola non perfetta, ma lo vedo sempre molto attivo sui campi gara, Gianluca Feit, ciao Gianluca. Buonasera a tutti. E alla mia sinistra invece la squadra Peugeot, campioni in carica, Paolo Andreucci, ciao Paolo, bentornato. Buonasera. E Carlo Leoni, sempre molto attivo all'interno della filiale italiana di Peugeot nello sport, ciao Carlo. Ciao, buonasera a tutti. Dicevo, i protagonisti perché si sono disputate le prime due gare del campionato italiano rally, un campionato che si sviluppa su 7-8 gare, c'è ancora un punto di domanda perché c'è un calendario work in progress. Le prime due gare hanno visto due piloti diversi al vertice, Umberto Scandola a inseguire, entrambe le volte a podio, Umberto Scandola che ha detta degli addetti ai lavori, sei l'uomo da temere, l'uomo da battere, Umberto. Cosa dici? Ma in realtà sì, dovrebbe essere così, in realtà invece ho inseguito in tutte e due le gare fino ad ora disputate, però conto che sulla terra spero di essere inseguito e non inseguire. Campione con piede destro ma anche campione in modestia, diciamola tutta, nell'ultima gara e di davanti hai forato, diciamo un 50% colpa tua, 50% sfortuna e nelle gare così brevi difficile recuperare perché il campionato italiano rally molto molto combattuto e tiratissimo. Purtroppo essendo così corto il chilometraggio delle prove speciali non ci permette il minimo errore e una foratura ha compromesso una credo quasi vittoria. Paolo tu quest'anno al campionato italiano rally te lo godi da una posizione privilegiata, non lotti per il podio, però sei dentro e tieni tutti sotto controllo i ragazzini con la tua 208 R2, chiudi il gruppo dei pretendenti alla vittoria però li stai curando. Non è facile anche perché sono molto bravi, noi abbiamo la 208 che finora è andata molto bene sia sulla prima gara che sulla seconda, condizioni difficili, asfalto, bagnato, però è molto ben guidabile e siamo riusciti sempre a vincere la categoria. Ecco ricordiamo che Paolo Andreucci il campionato italiano in carica quest'anno proprio per una scelta tecnica e anche di marketing l'evoluzione dei prodotti Peugeot ha deciso di fare metà stagione di transizione, di portare avanti lo sviluppo di questa vettura solo 1600 cm cubi e trazioni anteriori in attesa della vettura che poi dovrebbe sulla carta riportarlo in lotta per la vittoria l'R5, motore 1.6 turbo e 4 ruote motrici. Peugeot però continua, ci crede perché è sempre presente con la vettura ufficiale e poi ha rispolverato il concetto del trofeo non marca con la 208 R2. Sì, partirà brevissimo a maggio il trofeo Peugeot Competition 2013, lo facciamo con la vettura che stiamo lanciando e che Paolo ha portato ottimamente al debutto in queste due gare con la 208 R2, due ruote motrici, 185 cavalli, crediamo che sia la vettura giusta per il momento attuale, costi di gestione contenuti, costi di acquisto contenuti e soprattutto prestazioni perché poi sono quelle che anche all'interno di un trofeo monomarca comunque gli appassionati e i piloti vanno cercando. Quindi un passaggio importante è quello di decidere di lasciare la vincente 207 Super 2000 per concentrarci in toto sulla 208. Poi arriverà la Turbo 16 durante l'anno e quindi cercheremo veramente di ottimizzare questa stagione proprio per focalizzare l'attenzione di tutti sulla nuova 208. Gianluca, l'anno scorso Scoda Italia, Scoda Motorsport Italia è un grosso investimento, vettura nuova, struttura nuova, avete creato un team, lo avete rodato. Quest'anno ci sono tutti gli ingredienti per far bene con una piccola grande novità, un nuovo pattern a livello di pneumatici, però un inizio faticoso. Sì, un inizio faticoso, la vettura era stata studiata e sviluppata con il pneumatico Michelin, noi avevamo fatto un ottimo lavoro l'anno scorso, quest'anno abbiamo cambiato al nostro partner, ci stiamo trovando molto bene, ma naturalmente ci sarà da adattare quello che è la vettura alle esigenze di guida di Umberto e le caratteristiche dell'autovettura. Umberto, probabilmente più di quest'anno la regolarità premierà a livello finale, però non ti puoi accontentare. Dicevi la prossima gara sulla Terra e lì probabilmente ci rigiochiamo ancora tutto. Sì, la Terra a noi è sempre piaciuta e secondo me il pacchetto macchina Skoda Pirelli è molto competitivo in tutte le situazioni e in particolare sulla Terra. E poi insomma sarebbe anche ora di portare a casa la Coppa più alta che c'è in palio al prossimo evento, quindi anche per soddisfazione personale e per il team che sta lavorando veramente bene, che non risparmia su nulla, allo stesso tempo non spreca nulla, però sta facendo il massimo per dare il massimo. Puoi essere anche un po' a livello psicologico, essere inseguito è un po' più faticoso che inseguire? Secondo me sì, perché essere inseguito forse gestire è un po' più difficile, anche se comunque non è brutto essere davanti. Credo non sia brutto essere davanti. Paolo, sembra neanche farlo apposta, se l'anno scorso avevi due o tre avversari, quest'anno tra le piccoline ci sono un sacco di ragazzi scatenati e poi ti ho visto determinatissimo, cioè non sei in vacanza, sempre in massima concentrazione, tutto deve girare alla perfezione perché anche qui non ci si può distrarre. No, non ci si può distrarre perché c'è una bellissima lotta, poi sono in tanti, tutti i giovani molto bravi, e per cui ecco, ogni anno l'abbiamo presa seriamente come gli anni scorsi. È bello anche portare al debutto una macchina nuova, svilupparla per il mercato italiano, per cui insomma è anche di grossa soddisfazione. Ma tu quando sali in auto, a partenza di un rally ti poni un obiettivo, non so, nei primi cinque, prima delle due ruote motrici, mezzo secondo al chilometro tra le Super 2000, qual è il tuo obiettivo da rincorrere? La categoria, in primo luogo guardiamo la categoria perché abbiamo le dirette concorrenti come marca, per cui il primo obiettivo è quello. Poi, come è successo in queste due gare qui, si può dare anche uno sguardo all'assoluta perché abbiamo fatto un ottavo al ciocco, un sesto qua, e questo è molto bello trovarsi con una macchina di 1.16 cilindrata, due ruote motrici, a lottare con macchine più potenti e qualche volta, in qualche prova, anche con le quattro ruote motrici. Carlo, avete seminato bene negli anni, ha fatto un ottimo lavoro a Peugeot Sport, e voi un grande sviluppo, e anche se non c'è una vettura ufficiale, continuate ad essere davanti e vincere le gare, le prime due gare portano ancora i colori Peugeot. Segno di una 207 Super 2000, che al settimo anno di vita comunque tiene inalterata le prestazioni velocistiche, che è la competitività, il prodotto non ha più nulla da dimostrare, però è in dubbio che ci fa veramente piacere che ci siano dei privati, quindi non il team ufficiale a essere sul gradino più alto del podio. Segno che non era solo Peugeot Italia, la Racing Lion, Andreucci e Pirelli a vincere, ma il pacchetto complessivo è valido anche per i privati. Gianluca, l'obiettivo di Scoda è, da una parte, cercare di vincere il campionato piloti, ma anche il campionato costruttori, se ci fosse qualche altra macchina in più, è alla vostra portata, l'abbiamo visto, la competitività della squadra Fabio a livello internazionale è lì davanti agli occhi di tutti. Cosa può succedere qui alla seconda parte della stagione? Un team ancora più rinforzato, magari qualche spalla a darvi una mano? Diciamo che sì, la volontà è anche questa. Noi dobbiamo combattere contro uno squadrone anche di clienti privati, Peugeot, che non è facile, che portano punti. La volontà c'è, piloti ce ne sono, la macchina, ci sarebbero anche delle vetture, quello che manca oggi è un supporto economico per mettere in piedi un programma per una seconda autovettura. Un'ultimissima battuta, prima di ringraziare i graditi ospiti, Umberto, chi arriva secondo nell'italiano quest'anno? Non lo so, io so chi arriva primo, spero. A chi cedi la corona, Paolo, quest'anno? Umberto rimane sempre, come ho detto all'inizio, il favorito, poi vedremo. Vinci una Peugeot? Magari, adesso magari Umberto si incavola, però magari. Gianluca, vendiamo a cara la pelle, mi raccomando. Ci proviamo. In bocca al lupo, a crepi. Un grosso ringraziamento ai graditissimi ospiti del campionato italiano rally, ma Safe Drive Motorsport prosegue, prosegue con la nuova parte dedicata al mondo dell'orologeria, Racing Time, una sezione dove andremo a scoprire quello che lega il mondo della tecnologia in termini microscopici degli orologi al settore delle corse e delle belle auto. Tutto per sognare. Diavolina BB Cube garantisce un'accensione veloce e sicura di barbecue, camini e stufe. Pratico e sicuro, Diavolina BB Cube non genera odore di petrolio e non altera il gusto del cibo. Sigillato individualmente nel pratico vassoio, non sporca le mani e unisce un elevato potere calorico alla massima comodità. Diavolina, tutta la magia del fuoco. E all'interno di Safe Drive Motorsport passiamo alla sezione Racing Time, una serata particolare. Innanzitutto voglio presentare ai graditissimi ospiti il ritorno di Augusto Capitanucci, direttore dei 24 Hours, il mensile del gruppo 24 Ore. Buonasera. Ciao Augusto. Mario Peserico, un gradito ritorno anche da parte di Mario. Buonasera. Ciao Mario. Presidente dell'associazione Asso Orologi, alla quale fa capo 50 produttori in 50 aziende presenti in questo settore. Con lui parleremo del grosso problema della contraffazione, non solo per gli orologi ma proprio di tutto il settore. E poi Alessandro Tofanin, l'amico Alessandro. Buonasera. Che arriva in veste di autore, grande appassionato di numismatica, la prima fatica editoriale, Monete Italiane Regionali, Milano, edizione numismatica Varesi. Con lui andremo ad affrontare questo argomento nuovo per la nostra sezione, ma altrettanto interessante. Allora Mario, ho la responsabilità di comandare un gruppo importante che sta cercando di combattere, di limitare questo problema della contraffazione, estremamente pesante in tutto il mondo, ma in Italia non ci facciamo mancare niente, siamo molto attivi anche in questo settore. Si stima che la contraffazione valga il 10% circa del PIL mondiale, quindi parliamo di cifre gigantesche. È chiaro che la contraffazione nell'orlogeria ha degli aspetti diversi dalla contraffazione nell'alimentare o nel farmaceutico, ma è chiaro anche che comunque per il nostro mercato sia un danno notevolissimo, sia in termini di mancati guadagni, sia in termini di danni d'immagine. Di mancati guadagni, ma anche problemi a tutta una filiera importante, l'ultima catena è il distributore, il venditore, ma poi invece a livello proprio produttivo sono dei danni importanti. Gli aspetti sono molteplici, c'è il danno per il consumatore che non sa che cosa indossa, ovviamente i materiali che un'azienda, un marchio controlla e usa rispetto a certe normative il contraffattore le stesse attenzioni non le ha. Quindi sicuramente parliamo di materiali non analergici, nel caso della contraffazione, parliamo di acciai trattati con nickel, che si sa essere vietato, e poi parliamo di altri aspetti, come quelli dell'evasione fiscale, ovviamente la contraffazione non versa in poste. L'associazione che tu dirigi, come si sta muovendo in questa direzione? Che tipo di sensibilizzazione state attuando? Noi siamo arrivati dopo, ormai nei nove anni in cui stiamo lavorando assieme, a una campagna anticontraffazione che abbiamo comunicato il più possibile, e questo è un aspetto, e poi a un decalogo anticontraffazione che soprattutto serve al consumatore per rendersi conto di quali danni e di quali crimini vengono compiuti contraffacendo. Augusto, c'è chi compra un falso consapevolmente, banalmente per risparmiare e per avere a posto qualcosa che potrebbe ricordare qualcosa di vero, ma c'è anche chi viene fregato. Quali possono essere i consigli per cercare di capire se in quel momento si sta acquistando qualcosa di reale o qualcosa di falso? I consigli sono innanzitutto, beh, comprarlo consapevolmente io posso capire l'emozione di indossare un orologio di qualità e di pregio, però da un altro lato se dovessi bilanciare e pesare le cose è meglio acquistare un orologio magari Swiss made o comunque un quarzo giapponese, non so io, di grande qualità che dura una vita intera, piuttosto che un falso che ti può dare delle emozioni per un paio di mesi e poi muore, si spegne e non riprende più e non puoi neanche farlo sistemare perché come ti presenti con questo falso orologio, per regola dovrebbe denunciarti e sequestrare e confiscare il bene. Per evitare invece di cadere in trappola e di acquistare un prodotto contraffatto la cosa principale è innanzitutto farsi consegnare scatole garanzia, verificare che i numeri di serie combacino con quelli riportati sulla garanzia e magari chiamare anche la casa. Alessandro, prima di entrare nello specifico del tuo libro e del tuo grosso lavoro, oltre 300 pagine, la prima domanda, e mi reggancio all'argomento della serata, anche nel tuo settore ci sono dei falsi? Certamente, purtroppo come ogni settore del collezionismo è pieno di falsi e quindi è pieno di fregature, come le chiamate prima te, in cui in questo caso, essendo la moneta un oggetto antico, si aggiunge anche, permettetemi il gioco di parole, il fattore tempo, nel senso che a fianco di monete falsificate per ingannare il collezionista, ci sono anche dei falsi dell'epoca fatti per ingannare la circolazione. Quindi ci sono due grosse macro aree tipologie di falso, una facilmente riconoscibile, che è quella dell'epoca, in quanto variavano banalmente i metalli, la moneta valeva per il metallo prezioso che conteneva, quindi di solito erano rame argentato, rame dorato, quelle oggi sono facilmente riconoscibili e addirittura oggettano loro stessi di collezione, in quanto materiale antico. Diverso invece il discorso dei falsi moderni, fatti invece per ingannare il collezionista, quindi in questo caso vengono mantenute le caratteristiche tecniche proprie della moneta, quindi il materiale giusto, i pesi corretti e anche un aspetto il più fedele ovviamente possibile a quello originale e purtroppo con le tecniche moderne si fanno praticamente identiche. In questo caso occorre un occhio molto esperto per riconoscere un falso ovviamente non grossolano ed è per questo motivo che chi si avvicina a questo mondo del collezionismo è opportuno che faccia riferimento a esperti del settore. Ci sono, c'è tutto un mercato ovviamente numismatico dove i commercianti del settore sono uniti in associazioni sia nazionali che internazionali e loro garantiscono la provenienza innanzitutto e l'originalità dell'oggetto. Senti, da neofita ed ignorante in materia, la prima cosa che mi sorprende nella tua fatica monete italiane e regionali in Milano. Questo popò di libro affronta solo questa ristretta area geografica con in ogni pagina ci sono almeno due, tre, quattro, cinque monete che tu tratti con dovizia di particolari. Sì, piccola premessa. L'editore Alberto Varesi di Pavia sta compiendo un'opera molto importante perché sta rifacendo le monete italiane regionali. Quindi questo è l'undicesimo volume di una collana in realtà che va a occuparsi di una singola zecca. Ha già fatto altre zecca come Savoia, Napoli, eccetera. Adesso è la volta di Milano. Lì dentro, sì, ci sono più di 300 pagine e più di 600 tipi monetali diversi a loro volta divisi in varianti quindi arriviamo a migliaia di esemplari. Consideriamo che il periodo storico coperto è molto lungo perché copre da Carlo Magno fino alla chiusura della zecca quindi siamo fino a 800 sotto Umberto I. quindi sono un migliaio di anni con diverse dominazioni milanesi quindi tanto materiale. Poi scavando di giorno in giorno chissà, magari sono uscite delle monete che nessuno sapeva l'esistenza i libri non ne parlavano. Sì, la parola fine non può mai essere messa nel senso che un certo tipo di monetazione non è quella antica soprattutto non ha documentazione dell'epoca e quindi effettivamente potrebbe venire fuori anche un nuovo esemplare domani. Ecco, ritorno agli orologi e faccio una domanda simile orologi che hanno un valore alcuni pezzi di anni indietro è un investimento acquistano un valore giorno dopo giorno perciò anche gli orologi più anziani sono frutto di repliche o di fasi è corretto? Assolutamente sì capita sovente che un consumatore comperi un orologio spacciato per orologio d'epoca che abbia banalmente un quadrante ristampato e questo già ne inficia il valore ma che poi magari abbia un movimento che non sia per nulla originale quindi le attenzioni sono poi le stesse che consigliava Augusto prima quindi bisogna rivolgersi alle case bisogna scattare delle foto nel caso di orologi d'epoca non bisogna fidarsi ormai sappiamo come il mezzo internet sia il mezzo evidentemente più semplice per veicolare il falso non ci si può fidare a comprare su internet a meno che non sia un canale ufficiale nessuno dice che non ci siano noi siamo arrivati a verificare in un paio di occasioni in cui abbiamo svolto delle ricerche grazie a una società che è specializzata in questo che è Convey di Torino come per alcuni marchi le pagine contraffattive online arrivino al 70% delle pagine che afferiscono a quel marchio quindi delle prime 500 pagine richiamate su Google 350 rischiano di essere contraffatte volevo ricollegarmi invece ad Alessandro Toffanin perché è molto interessante quello che fa con le monete perché note il caso dell'ologere hanno realizzato dei segnatempo con il quadrante al posto del quadrante delle monete sì erano delle monete sì sì sarebbe bello vedere anche cosa hanno utilizzato poi non ho mai ma diciamo che il fatto di averla forata la moneta non è proprio dal mio punto di vista la cosa più insomma da collezionista però sicuramente un indice come la moneta sia a sua volta un'opera d'arte perché comunque c'è un incisore dietro che ha creato dei piccoli capolavori che poi sono anche piacevoli alla vista quindi poi utilizzati anche per per altri motivi in antichità le hanno usato tantissimo per i gioielli esempio state montate in collane anche in epoca romana per spille insomma quindi è un oggetto che diventa oltre che oggetto da collezione anche ornamento è comunque un oggetto piacevole alla vista e con quest'ultima battuta le monete sono un'opera d'arte gli orologi lo sono altrettanto con in più la tecnologia ringrazio i nostri graditi ospiti della serata e voi invece cari amici telespettatori rimanete con noi perché chiudiamo la puntata come da tradizione con le news dai campi gara a Cixai Gian Domenico Basso e Miti Adotta Peugeot 207 Super 2000 si sono giudicati i rally del ciocco gara di apertura del campionato italiano 2013 il Veneto al volante dal Peugeot 207 Super 2000 Michelin è sempre stato al comando della corsa concludendo con un minuto di vantaggio su Alessandro Aperico anche lui con una Peugeot 207 terzo Umberto Scandola con la squadra Fabio Ufficiale un po' in difficoltà a causa delle variabili condizioni climatiche che hanno condizionato la scelta dei pneumatici il rally del ciocco ha anche visto il debutto della nuova Peugeot 208 R2 di Paolo Andreucci il Toscano ha chiuso ottavo secondo tra le due ruote motrici per quanto riguarda il campionato italiano produzione la vittoria è andata Alessandro Buosca con la Renault Clio R3 anche primo del trofeo monomarca dedicato davanti a Nuccita Citroen DS3 vincitore tra i partecipanti al trofeo Citroen Racing Trophy Italia nel campionato italiano junior prima importante vittoria per una Peugeot la 208 R2 di Andrea Carella molto bravo a tenere dietro le due Renault Gordini di Andolfi primo del trofeo Twingo e Crugnola passiamo adesso alla rally mille miglia meritata vittoria di Alessandro Perico e Fabrizio Carrara Peugeot 207 Super 2000 del team PR Racing Gommata Pirelli per il Bergamasco una vittoria importante che lo porta al comando della classifica tricolore proprio davanti è Umberto Scandola che ha chiuso il secondo posto con la sua Skoda Fabia a meno di 5 secondi penalizzato da una foratura nelle fasi finali terzo posto per Emanuele Zecchin con l'ennesima Peugeot 207 simile a quella del compagno di team Gian Domenico Basso qui ritirato per un'uscita di strada nella prima tappa quarto e primo del campionato produzione le ha riconfermato Alessandro Bosca con il Renault Clio R3 davanti a Ivan Ferrarotti per quanto riguarda il campionato junior cristallina vittoria di Andrea Crugnola Renault Twingo che ha preceduto Andolfi e Cugnall è il brasiliano Reinaldo Varela ad aggiudicarsi l'Italian Bahia con il velocissimo Proto Overdrive per gli iscritti al primo appuntamento del campionato cross country mentre nell'italiano la vittoria porta la firma di Lorenzo Codeca portacolori di Suzuki Italia il campione italiano in carica la sua Gran Vitara 3.6 ha beneficiato del ritiro dall'avversario diretto Roberto Colombo fermato da una rottura del motore della Mitsubishi L200 quando era al comando della competizione secondo posto dunque tra gli italiani per Franco Grigoletto con una Toyota Hilux terzi nella classifica tricolore e primi della classe T2 Luce Carmine Salvi con una Mitsubishi Pagero della Rally Art Team Off-Road Italia il veloce Andrea Lolli si aggiudica al trofeo Suzuki Challenge riservato alle Gran Vitara di gruppo T2 davanti a Dalmazzini ed Emanuele E partito dall'autonomo di Monza il campionato Superstar International Series dedicato alle veloci berline con motori V8 sul veloce circuito lombardo sono state le Mercedes C63 e le dominatrici del weekend con i due podi ad appannaggio esclusivo delle vetture della Stella a tre punte ad alternarsi nelle prime posizioni in entrambe le gare sono stati gli alfieri del team ufficiale Mercedes Hengue Romeo Ferraris rispettivamente Tonio Liuzzi vincitore di gara 1 e Thomas Biaggi vincitore di gara 2 attore unico per il terzo gradino del podio Luigi Ferrara su un'altra Mercedes la C63 Hengue in versione coupé l'Audi RS5 di Gianni Morvidelli si è ben difesa pur penalizzato da una cavalleria inferiore alle Mercedes la 4x4 tedesca ha conquistato due volte la quarta piazza assoluta precedendo prima l'esordiente Chevrolet Camaro di Francesco Sini e poi un'altra Mercedes Hengue quella di Andrea Bacci Piazzi e in realtà non giusti vittoriosi con le vetture di Romeo Ferraris che fai che fai